Arrivano i dati della campagna di vaccinazione 2013-2014, a 10 giorni circa dalla chiusura, e rivelano che l'Asle Umbria 1 ha registrato un'adesione del 63-45%, un dato che non raggiunge ancora l'obiettivo nazionale del 75% e che è inferiore a quello dell'anno scorso, 67%, ma che va letto comunque come buono rispetto alla media nazionale. Nel dettaglio, nel distretto dell'Alto Chiascio, sul totale degli over 65, il 57,22% si è vaccinato, ma è il dato più basso, se si considera che nei distretti dell'Alto Tevere, del Perugino, dell'Assisano e del Lago Trasimeno, il dato scilla tra il 60% e il 68%. Per ora è sotto controllo il rischio sovraffollamento negli ospedali per le complicanze legate all'influenza, ma il picco è previsto nelle prossime tre settimane. Il fenomeno riguarda soprattutto quei pazienti con patologie di base che si riacutizzano a seguito dell'influenza stagionale, lo dice il direttore generale dell'Asle Umbria 1, Giuseppe Legato. Tutto sotto controllo, grazie soprattutto, dice, ad un'azione coordinata di integrazione tra i vari presidi dell'azienda. Ieri, per esempio, da Branca c'è stato un trasferimento verso l'ospedale di Assisi, l'unico e il più vicino presidio, con qualche posto letto disponibile. Il tutto, dice Legato, per evitare il triste fenomeno, ma spesso frequente in periodi di sovraffollamento ospedaliero, delle barelle in corsia. Dall'Asle, dove si certifica che l'andamento dell'influenza è al momento sovrapponibile a quello degli ultimi anni, si raccomanda di rivolgersi prima sempre al proprio medico di medicina generale o alla guardia medica. Non accedere di propria iniziativa al pronto soccorso per evitare una congestione delle attività dell'emergenza urgenza. È importante, invece, che i ricoveri siano prescritti a fronte di complicanze rilevate dal medico di famiglia o dalla guardia medica.